L'apertura del cofano viene azionata tramite una leva nella parte laterale sinistra del cruscotto. Dopo aver aperto il cofano è possibile accedere al vano motore per il drabbocco con contatto disinserito e motore freddo, al vano del liquido lavavetro del parabrezza, del liquido di raffreddamento, dell'olio motore e del liquido dei freni. La batteria non richiede alcuna manutenzione.